musica oh fabio basta cosa? spegni perchè? sono 60 volte che guarda il tuo film vabbè ma è bello dai ma Spencer e Terenceyla altrimenti ci arrabbiamo a me piace, è un film eterno a me piace si ho capito tutti i loro film sono fantastici ma non possiamo guardare sempre gli stessi film per altri 50 anni sarebbe bello che li rifacessero si si come li rifaresti? innanzitutto se tu fai Bud Spencer e io faccio Terenceyla ci manca un cattivo senza forza con gli scagnozzoni gli scagnozzoni i nerboruti si poi ci vuole una storia divertente insomma una storia simpatica allora che succede qua dentro? noi siamo i nuovi Bud Spencer e Terenceyla e sei non d'accordo? sei non d'accordo? eh ce ne abbiamo eh ce ne abbiamo si arrabbino ahah cosa? no mi rosa e i pugliazzi troppo giusti? e i pugliazzi troppo giusti? scassotate scufurpa 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 chi è che non era d'accordo c'è fatta arrabbiare E adesso? Cosa manca? Le colune sono ore. E come facciamo? Andiamo negli oligolumus. E dove? A Roma. Tu sai dov'è? Andiamo. E voi chi siete? Siamo i nuovi Fastpatter e Teresì. Ma fatela finita.